Buonasera. Buonasera mister. Buonasera. Allora, sapevamo perfettamente dove saremmo venuti a giocare e con chi. La sconfitta ci poteva stare, ci può stare per quanto visto in campo. Quello che non è piaciuto personalmente a me, ma anche a tanti tifosi, sto leggendo i commenti, è l'atteggiamento. Ho letto alcuni articoli, mi sembra, su Gazzetta.it che scrive abbiamo visto un Frosinone che sembrava già rassegnato a inizio gara. Perché questo atteggiamento remissivo nei confronti del Napoli? Se è la visione giusta che abbiamo visto, se siamo fuori strada ci corregge. Grazie. Purtroppo è normale che quando prendi quattro gol, la prima cosa che si dice è che non c'era l'atteggiamento. Io dico invece che la squadra aveva comunque sicuramente l'intenzione non di venire qui a Napoli già battuta. Quindi in questo c'era la volontà sicuramente da parte dei ragazzi di fare sicuramente una partita diversa sotto l'aspetto del risultato. E' normale che quando vai sotto 1-0 dopo neanche dieci minuti su un calcio d'angolo proveniente comunque da un nostro disimpegno dove tra un batti e ribatti la palla finisce a Zelischi e finisce dentro, è normale che la partita si mette già subito su un binario sbagliato. In quel momento bisognava avere la forza comunque di continuare a difendere con ordine perché la partita era ancora talmente lunga che non potevamo già di per sé prestare il fianco al Napoli e in quel momento è normale che abbiamo cercato comunque di continuare a togliere spazi ad una squadra che sappiamo che in campo aperto ti può comunque far male in maniera importante fino al gol di Unas che comunque non dico che ha chiuso la partita però è normale che ritrovarti sotto 2-0 in un campo così importante dopo mezz'ora e poi dopo ti complica la situazione perché dopo devi alzarti, devi andare nella metà campo avversaria, devi far partita e devi lasciare spazio ai giocatori che sappiamo di che qualità sono quindi in quello è normale che poi sembra che non ci sia l'atteggiamento però come al solito se non ci fosse stato sarei stato io il primo ad arrabbiarmi quindi in questo può darsi che non sono stato bravo io a far trasparire questo tramite i miei giocatori e quindi in questo, ripeto, non vedo un atteggiamento sbagliato da parte dei miei ragazzi che è normale che potevano reagire sicuramente diversamente alla forza del Napoli ai gol del Napoli ma quando li trovi anche in queste giornate diventa anche difficile per noi Allora, lettura non corretta da parte mia, ci può stare? Allora ti chiedo, c'è qualcosa, perdendo 4-0, che a te non è piaciuto di questa squadra oggi? Qualche aspetto che proprio non hai gradito oppure in generale è andata così? No, sicuramente non mi è piaciuta la prestazione in generale la prestazione in generale perché non puoi commettere errori contro una squadra del genere perché sappiamo benissimo che al minimo errore ti castigano e quindi di conseguenza dovevamo venire qui con la massima attenzione e invece per delle inezie, dei dettagli che comunque non hanno funzionato sicuramente siamo andati sotto, non si può essere sicuramente soddisfatti, non si può essere contenti siamo i primi ad aver analizzato la partita, ad analizzare la partita sicuramente in maniera negativa però non vuole essere un alibi ma viene difficile comunque vederla in maniera diversa contro una squadra come il Napoli che ripeto, oggi era in una situazione che sapevamo benissimo che non avrebbe sbagliato la partita Buonasera Mister, due domande veloci veloci Allora la prima, come si riparte soprattutto a livello mentale dopo un 4-0 visto che sicuramente domenica c'è una partita diciamo più alla nostra portata e seconda, oggi hai provato Campbell e Pinamonti non è sicuramente un banco di prova questo attendibile ma che risposte ti hanno dato? Sicuramente si riparte con la consapevolezza di quello che è il nostro percorso quindi è normale che, ripeto, vedere sulla carta la possibilità di perdere a Napoli comunque era una cosa possibile avessimo perso 1-0 sicuramente non avrebbe cambiato nulla in termini di classifica dobbiamo essere bravi a recuperare velocemente energie sia fisiche che psicologiche perché sappiamo che adesso inizia una striscia di risultati di partite da parte del Frosinone dove sappiamo che dobbiamo costruirci le possibilità di salvare questa squadra perché credo che fino alla terza di ritorno le squadre che dovevamo incontrare dovevamo incontrare, stiamo parlando, quindi vedi Juventus, vedi Inter, vedi Roma le abbiamo già trovate tutte quindi in quel senso inizia un mini campionato dove dovremo per forza di cose andare a recuperare quel terreno che comunque la squadra già stava cercando di recuperare perché nelle ultime sette partite credo che abbia fatto sette punti se non sbaglio la media è questa quindi è normale che l'handicap iniziale pesa però in questo momento sicuramente era in una media che poteva comunque portarci alla salvezza Buonasera mister Ah scusa me l'ha ricordato Fernando di Pinamonti e Campbell ma è normale che hanno dato delle indicazioni sicuramente di grande disponibilità però sappiamo che oggi questa era una partita sporca per quanto riguarda gli attaccanti perché comunque era una partita di grande sacrificio di grande sicuramente predisposizione comunque a cercare di lavorare per la squadra le palle che hanno avuto non sono state palle giocabili di grande qualità quindi dargli oggi una valutazione sarebbe errato se non il fatto di aver dato comunque un'opportunità di crescita ancora una volta a Pinamonti che sappiamo che è un ragazzo di valore e di prospettiva che oggi ha avuto un'opportunità in trasferta così come l'ha avuta a Milano e presto comunque l'avrà poi anche in casa dove sicuramente avrà un tipo di partita da svolgere diversa Buonasera mister Marco Giordano Calciomercato.com per chiederle il primo gol è arrivato anche come frutto di una uscita abbastanza articolata che la sua squadra ha provato a sviluppare io mi sento di guardare un po' oltre i singoli risultati perché perdere a Napoli ci sta il Frosinone al pari di altre piccole squadre sta cercando di sviluppare un calcio più propositivo con un'uscita dal basso anche molto articolata, intelligente le chiedo però alla luce delle difficoltà anche tecniche che a volte si riscontrano perché i calciatori possono avere dei limiti tecnici si pente un po' di provare a fare un calcio così evoluto con la sua squadra oppure è contento dei riscontri che sta avendo? Ma allora innanzitutto questo coraggio è quello che ci ha permesso di fare questa striscia di risultati positivi nelle ultime sette partite dove abbiamo perso poi a Milano e abbiamo perso a Napoli senza questo coraggio ci vanno grandi individualità per vincere le partite e le grandi individualità spesso e volentieri ce le hanno le grandi squadre quindi da parte nostra se dobbiamo sperare di buttare una palla avanti e che ci sia una giocata del singolo io credo che la coperta sia più o meno corta uguale soprattutto oggi aver calciato delle palle magari dal fondo dove Coulibaly e Luperto ci sovrastavano in centimetri e in fisicità con Pinamonti e Campbell sicuramente poteva essere diverso quindi in questo coltiviamo il coraggio anche con queste grandi squadre di poter poi giocare come abbiamo fatto con una squadra alla portata come era magari quella del Cagliari facendo un'ottima partita con connotati comunque tecnici e organizzativi che ci hanno permesso comunque di creare almeno 7-8 palle gol pulite in un match di pari valore grazie grazie a voi grazie a voi grazie a voi